Le misure anticontagio sui mezzi pubblici funzionano. A dirlo è lo studio di un gruppo di ricercatori dell'Università d'Annunzio Chieti-Pescara. Durante 10 giorni di monitoraggio sugli autobus della panoramica di Chieti non è stata riscontrata alcuna traccia di Covid. I campioni dell'aria e delle superfici a bordo dei mezzi sono stati analizzati dal Laboratorio Universitario di Genetica Molecolare, utilizzando le stesse tecniche con cui vengono valutati i tamponi e non hanno dato riscontro della presenza del virus. Lo studio si è svolto dal 12 al 22 maggio, quando l'Abruzzo era la quinta regione italiana per tasso di mortalità da Covid, con una percentuale che si attestava intorno al 12%. Durante le osservazioni però non è stato possibile testare tutti i circa 1.100 passeggeri saliti a bordo, quindi i ricercatori non sanno dire quanti positivi abbiano effettivamente usufruito dei mezzi pubblici. Secondo un recente studio basato sui numeri di Cina, Italia, Stati Uniti e Grecia, la percentuale degli asintomatici tra i positivi si attesterebbe tra il 40 e il 45%. Considerando allora un 30% di asintomatici tra i 123 passeggeri che in media hanno viaggiato su ogni autobus, lo studio stima che siano saliti a bordo 37 positivi. Ciò però non è bastato a far rilevare il Covid né nei campioni dell'aria né sulle superfici più frequentemente toccate dai passeggeri. Questi risultati, commenta Piero Di Carlo, il professore a capo dello studio, suggeriscono che la riduzione del numero dei passeggeri, l'uso della mascherina, la disinfezione delle mani e l'arieggiamento sono misure efficaci per prevenire la diffusione del SARS-CoV-2 nel trasporto pubblico. E con l'ordinanza regionale 98 firmata ieri pomeriggio, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dimezzato il numero dei passeggeri sugli autobus, potrà salire a bordo il 50% della capienza indicata sulla carta di circolazione e stabilisce inoltre interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.